Provinz, notizie, attività ed eventi nella provincia di Roma. Dalla provincia 2 milioni di euro alle imprese. 2 milioni di euro per il sostegno e l'accesso al credito delle piccole e medie imprese di Roma e provincia e il pagamento di tutti i fornitori entro gennaio 2013. È quanto previsto in due provvedimenti della provincia di Roma presentati ai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali dal presidente Nicola Zingaretti, che così li riassume. Oggi abbiamo annunciato due cose molto importanti. Pagheremo entro fine novembre il 50% di tutti i fornitori e ci siamo impegnati entro fine gennaio di saldare tutti i fornitori delle gare e i fornitori della provincia. E secondo, mettiamo 2 milioni di euro a sostegno del credito delle imprese, che era l'altra grande richiesta del mondo economico. Nonostante i tagli della spending review, la provincia di Roma ha dimostrato che è possibile fare qualcosa di concreto, come afferma l'assessore al bilancio Antonio Rosati. Bisogna forse coniugare rigore, sacrifici, efficienza, ma un pochino di investimenti pubblici e privati. Noi abbiamo voluto tentare di dimostrare che è possibile farlo. Startup. Ricerca e innovazione per rilanciare lo sviluppo. Esperienze europee a confronto alla provincia in occasione del Local Open Days 2012 per fare il punto sulle iniziative promosse per favorire lo sviluppo di start-up di imprese. Esperti, operatori e amministratori di diverse città europee hanno raccontato le loro esperienze e si sono confrontati con gli imprenditori del territorio romano. Cosa è emerso? Che le start-up possono essere un motore di crescita per far ripartire una nuova economia, per uscire dalla crisi, come sottolinea Giampaolo Manzella, direttore del Dipartimento Innovazione e Impresa della provincia di Roma. Il fenomeno delle start-up fa una cosa fondamentale. che innerva nel tessuto di una città, di una metropoli, l'idea di fare impresa. Aiuta questi ragazzi a passare molto velocemente dall'essere degli studenti al dover confrontarsi con il mercato. E secondo me è molto importante che in un tessuto come Roma questa idea di imprenditorialità metta radici, perché solo mettendo radici poi potrà dar frutti nel futuro. La provincia ricorda Pierpaolo Pasolini con una mostra-evento. Si chiama PPP, una polemica inversa, la mostra ideata e organizzata a Palazzo Incontro dalla provincia di Roma per rendere omaggio a Pierpaolo Pasolini. Undici poesie di Pasolini sono rivisitate in chiave personale da 22 artisti contemporanei attraverso un gioco interattivo tra la parola e le immagini. Una sperimentazione, come la definisce il presidente della provincia, Nicola Zingaretti. Una grande sperimentazione che dimostra due cose. Uno, l'attualità ancora della capacità di provocare di questi testi e anche la ricchezza di un parco di artisti che stimolati, come vedrete, ha prodotto una mostra davvero unica e interessante. La mostra, visitabile fino al 23 dicembre, prevede anche due giornate di approfondimento e si avvale del supporto di un comitato scientifico formato da Carla Benedetti, Gianni Borgna, Dacia Maraini e Achille Bonito Oliva, che ricorda così Pierpaolo Pasolini. Una parola resistenziale di un poeta civile che ci ha sempre richiamato alla responsabilità in un paese invece che andava già alla deriva e lui aveva intuito questa amoralità. La rivoluzione ecologica della raccolta differenziata arriva anche a Nettuno. Arriva anche nel comune di Nettuno il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta finanziato dalla provincia di Roma. Partirà il 12 dicembre e coinvolgerà 25.000 abitanti con l'obiettivo di chiudere il 2013 con il 65% di differenziata. Un'opportunità ed un impegno per i cittadini come sottolinea il sindaco Alessio Chiavetta. La raccolta porta a porta, grazie alla provincia, grazie al presidente Zingaretti che ci ha creduto insieme a noi, è un qualcosa che dai prossimi giorni diventerà qualcosa di reale. I cittadini dovranno fare uno sforzo in più ma è soprattutto per il futuro della nostra città che va fatto questo. Dal giugno 2008 ad oggi la provincia di Roma ha finanziato nuovi progetti per 69 comuni per una popolazione coinvolta di un milione di abitanti. Con il comune di Nettuno un'altra promessa è stata mantenuta come afferma il presidente della provincia Nicola Zingaretti. Le amministrazioni comunali in provincia si muovono con grande coraggio e determinazione e che conferma l'idea della provincia di Roma come una realtà all'avanguardia in Italia su questo ciclo dei rifiuti. E questa è una bella soddisfazione perché era una promessa, era un impegno e sta diventando grazie alle amministrazioni comunali una realtà. Provinz Notizie, attività ed eventi nella provincia di Roma Aktività